ai 12 anni ho avuto la chiamata della della stella azzurra per andare a giocare a roma e allora lì già ho incominciato un po a pensare al basket come un come un lavoro come unica cosa da fare è sempre un divertimento cioè si dice per questo giocare a basket è un gioco e ti diverti e io sempre aspettative molto basse perché tutto quello che ti succede poi è tutta una sorpresa e tutto quello di guadagnato adesso non sono particolarmente teso magari forse un po prima della partita ma di solito io quando entro in campo mi sciolgo dopo dopo qualche qualche azione perché alla fine giocando giochi e basta non pensi alla gente che ti guarda o tutte queste cose matteo due giocatini a 2 2 il canestro è uguale canchina è uguale il canestro è uguale ok per ciò voglio dire se se ho la possibilità di legge di fare il mio tiro e tutto ce la facciamo poi ci sbattiamo come dei pazzi dall'altra parte il nazionale ragazzi non c'è mai una partita amichevole e non si gioca mai sui figli per questo ok ragazzi questa è una grande sfida insieme come detto meno senza paura andiamo avanti oltre errori aiutiamoci ma facciamo vedere quanto accassi di voglia e fama abbiamo dai 1 2 3 aiutiamoci ma facciamo vedere aiutiamoci ma facciamo vedere aiutiamoci ma facciamo vedere La cosa più importante che penso che debba fare è dare da diciassettenne una grande energia in difesa, in attacco, non avere timore nell'attaccare, nel prendere i miei tiri. Da diciassettenne devi correre come un pazzo e non fermarti mai. Con la nazionale c'è sempre una grandissima emozione giocare per la nazionale e giocare con quelli grandi, perché già con l'Under 16, con l'Under 15, l'Under 18, con la giovanile è sempre un'emozione grandissima. Non potete neanche immaginare quella che per me è con la nazionale maggiore. E' stata una grandissima emozione. Perché comunque è il sogno di tutti i ragazzi di poter giocare in nazionale, la nazionale del proprio paese. Poi noi come genitori ovviamente, dopo tutti i sacrifici che fa, è tutta sella ancora che lui mette avanti nella sua strada verso il poter diventare forse un giorno un giocatore di Palacanestro. Grazie. 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 Grazie.